Presidente Sacconi, aria popolare come giudica questa candidatura di Sergio Mattarella? Una candidatura a frutto di un metodo arrogante, quello per cui tutto si risolve all'interno del Partito Democratico che compone le sue divisioni, propone un nome secondo la logica del prendere o lasciare. Noi non accettiamo questa logica, noi come peraltro verso Forza Italia, cioè coloro che si riconoscono nel popolarismo europeo e che ritengono in prospettiva di dover essere alternativi al Partito Democratico, rifiutano un metodo che è sostanza politica e istituzionale, cioè l'idea di una occupazione generalizzata del potere da parte del Partito Democratico che non ha ancora la maggioranza assoluta e anche nel caso l'avesse teoricamente non dovrebbe occupare ogni posizione istituzionale proprio perché occorre un equilibrio fra i poteri. Presidente Sacconi, ci sono margini per una ricomposizione? Li vedo molto difficili, certamente non sul nome che è stata espressione di questo metodo arrogante.